Oggi grandissima vittoria per tra uno contro l'Atletico quarto. Nonostante essere passati in svantaggio siamo riusciti a recuperare una partita che volevamo vincere a tutti i costi e sono entrato in campo dopo un lunghissimo infortunio che mi ha tenuto fuori dal campo per sei mesi, un infortunio accrociato e sono riuscito anche a fare gol. Ho calciato con tutta la forza che avevo per spazzare via questi sei mesi di sofferenza ed è uscito un gol bellissimo. Sono contento per la squadra, per la vittoria e quindi volevo innanzitutto ringraziare tutti, la società che mi è stata molto vicina, il direttore sportivo e appunto la squadra perché dopo il gol abbiamo fatto un'esultanza bellissima tutti insieme abbracciati e sono contento perché ora la classifica è molto positiva, vogliamo vincere tutte le partite da qui in avanti e cercheremo di centrare tutti gli obiettivi che ci siamo preposti ad inizio campionato.